Salve a tutti amici di Crypto Jam e benvenuti in un nuovo video. Allora intanto ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale recentemente e se siete nuovi ragazzi iscrivetevi pure se volete, lasciate anche un like e un commento. Questo è il canale che aveva previsto il minimo di questa settimana, ovviamente tramite un video che adesso sta girando, praticamente ovunque il video in cui due mesi fa avevo previsto un nuovo bottom per Bitcoin. Questa settimana e ovviamente vi invito a vederlo, si chiama il video più importante che vedrete oggi e ovviamente oggi si riferiva all'altro giorno, quindi due mesi fa, quindi a ieri non oggi. Comunque iniziamo intanto ragazzi da alcune notizie importanti. Volevo parlare intanto della struttura di FTX, quindi in cosa aveva investito un po' meno giusto per vedere quanti danni ancora arriveranno. Poi volevo vedere con voi alcune cose divertenti riguardo FTX, andiamo a vedere alcune cose sulle stablecoin, perché bisogna stare attenti alle stablecoin. E' anche un motivo secondo me per il quale le istituzioni stanno scappando in questo momento dalle cripto e sarà difficile farle rientrare. Ci sono due buone notizie, cioè c'è una notizia buona in verità, è una notizia cattiva riguardante questa fuga e riguardante anche il fatto che vogliono regolamentare la cosa, però andiamo a vederla più tardi. Intanto come vedete qui, questo in verità è molto più piccolo di quello che ho visto l'altro giorno, che sto cercando ancora, non riesco a trovarlo, comunque lo pubblicherò, che fa vedere un po' chi aveva investito in FTX. Ragazzi FTX non è una cosa, come si dice, non è come Celsius che è sparita o come altre. FTX c'erano grandi giocatori, grandi giocatori connessi anche nella politica che avevano investito. Sappiamo che Sam, o Scam, Bank & Fed, lui aveva anche delle connessioni col governo, andava a parlare, diciamo, faceva al congresso, faceva delle cose così e tanti hanno investito nella compagnia tramite lui o sono entrati nel mondo delle cripto tramite lui. Ovviamente ci sono anche grandi celebrità che hanno investito, ci sono grandi compagnie. Lui stesso ha investito, usando anche il suo token come collaterale in altre compagnie, che al momento ancora non abbiamo visto cadere, che secondo me però, effetto domino, prima o poi cominceranno a cadere. Quindi attenzione ragazzi, perché sto facendo indagini e piano piano stanno venendo fuori piccoli mostri un po' ovunque. Allora, intanto volevo vedere una cosa con voi. Forbes, ok, è una di quelle, un'altra di quelle società che voglio esporre, come Bloomberg, come il trash del trash, ok? Quindi noi stiamo praticamente tirando fuori in questo canale tutto il trash possibile e stiamo facendo vedere tutti i giornali che voi non dovete mai guardare, tutte le magazine oppure tutte le riviste, che se le vedete da qualche parte usatele come cartagenica subito. Allora, se non conoscete la signora qua a sinistra, questa è Elizabeth Holmes, che praticamente aveva fatto uno dei più grandi scam della storia. aveva praticamente detto che c'aveva una tecnologia che con una goccia di sangue poteva analizzare un sacco di dati che solitamente servivano, se non sbaglio, usando litri di sangue. Quindi risparmiare un sacco di sangue, un sacco di, diciamo, di analisi, cose del genere, si potevano usare più volte. In verità la sua tecnologia non è mai stata testata da nessuno, nessuno ha mai chiesto i dati reali della cosa e apparentemente alla fine era uno scam, non era vero e ci avevano investito miliardi, ne parlavano tutti, gente famosa dello spettacolo, la Casa Bianca, ex presidenti, tutti che dicevano è un genio, è una grandissima, invece dopo è uscita fuori che è una sociopatica o un'altra. Come vedete Forbis aveva fatto anche una bella immagine del nostro amico Scam e quindi questo è un altro di quei giornali che noi metteremo il label come Trash Newspaper, ok? Poi abbiamo anche le cose divertenti qua, c'è Forbis che guarda gli Scammers, Real Business, vabbè questa è una foto famosa che sappiamo tutti. Questa mi è piaciuto molto, ve lo condividevo con voi. The Name of the Company in FTX, ovviamente sappiamo tutti cosa stava facendo in questa scena Leonardo DiCaprio durante il film The Wolf of Wall Street e ovviamente questa è l'identikit. Sapete che loro dicono che è stato hackerato, no? FTX. Questa è l'identikit dei due possibili hacker. L'altro giorno abbiamo anche visto l'intervista del CEO di Alamanda che è questa ragazzina qui. Comunque ragazzi andiamo avanti, queste sono le cose divertenti giusto per tenervi su un po' di morale. Andiamo a vedere più che altro le stable can, sappiamo che ne stiamo perdendo un'altra, a USDT. Allora io recentemente ho detto ragazzi, muovete tutti i vostri stable can anche da USDT, perché io sto facendo, sto preparando un video che spero sia pronto il prima possibile, che espone Tether, quindi USDT, al fatto che non sia esattamente una cosa così sicura come si vede. Ok, dietro ci sono personaggi un po' loschi e il modo in cui loro fanno, diciamo, i loro rapporti non è proprio così chiaro e limpido e sembrerebbe che stiano stampando un po' troppi soldi dal nulla. Ok, quindi andremo a vedere adesso appena ho pronto il video, scusate se ci metto tanto, ma a certe volte è veramente faticoso montare il video, soprattutto per me, che sono molto impegnato nella community. E a proposito della community ragazzi, ieri abbiamo beccato un bellissimo trade su Ciaro, perché qualcuno durante la live ieri mi ha chiesto ma Ciaro? E niente, ieri abbiamo beccato un bellissimo trade su Ciaro, questo qua, come vedete che avevo mandato la wage, avevo chiamato un piccolo buy in questa zona con un possibile speculazione. Quindi ieri abbiamo fatto questo bellissimo trade, infatti alcuni dei ragazzi hanno già postato il loro trade, vediamo dove sono, eccoli qua Ciaro, hanno preso questi bellissimi due trade. Quindi ragazzi, se vi interessa far parte della nostra community che sta crescendo sempre di più, da inizio anno ormai stiamo crescendo, la famiglia cresce, più siamo, più tantissimi trader professionisti stanno entrando, vedo che tanti ragazzi che entrano comunque sono già dei trader, già preparati, che gli piace usare il nostro GTI, gli piace usare le nostre analisi e dare una mano all'interno della community. Ok, quindi se volete farne parte, se siete novellini o siete esperti, quello che è, comunque ragazzi noi accogliamo tutti e stiamo creando il più grande discord finanziario in Italia. Ok, questo è l'obiettivo per i prossimi anni. Comunque andiamo a vedere intanto il mercato come sta procedendo stamattino. Ok, allora intanto i volumi sono molto bassi, anzi continuano a scendere, questo vuol dire che c'è una possibile arrivo di esplosione, quindi stiamo schiacciando sempre di più. Infatti se andiamo a vedere le candele, le candele sono sempre più piccole, sempre più schiacciate, un po' come la situazione che abbiamo avuto in questa zona qui, dove poi abbiamo avuto una piccola esplosione, quindi stiamo avendo pochi volumi ragazzi, pochi volumi. Quindi da tenere sott'occhio i volumi, molto importanti per i movimenti, sicuramente io non credo quando ci sono questi volumi perché a meno che non trovi una coin che ci abbia comunque qualche bel pump oppure qualche bel dump, dipende come sia rocco gli ultimi giorni. Però a differenza gli altri big non si muovono, i big non si muovono perché già i volumi sono molto bassi. Poi bitcoin dominance ancora lì, ragazzi sapete che se la dominance aumenta vedremo soffrire le all coin e noi facciamo tutti i giorni anche le analisi dell'intero mercato nel nostro discord. Quindi se volete sapere esattamente dove sta la vostra testa, dove stanno i vostri piedi quando investite, vi consiglio di entrare a far parte della family perché noi passiamo almeno un'ora la mattina a analizzare l'intero mercato per sapere dove siamo. Poi andiamo a vedere i gainer e i peggiori che hanno fatto. Allora, vediamo che il Trust Wallet Token, questo l'abbiamo visto io nella live, avevo promesso che ci avrei dato un'occhiata, comunque è già preso il 24%, si trova in una rising wedge al momento, quindi possibile bearish pattern, però forse non sarebbe un buon, non sarebbe un cattivo investimento, poi magari farò un video e vi spiegherò il perché. Sto ancora indagando, non voglio dire cavolate, quindi non voglio espormi troppo su una cosa che ancora non sono sicuro di sapere. Poi, peggiori, nell'ultima settimana sappiamo Solana, uno tra i peggiori, abbiamo parlato del rischio di Solana a questo livello. Siero tra i peggiori, abbiamo fatto comunque un ottimo pump negli ultimi giorni, cioè ieri. Tra i peggiori c'abbiamo anche il DAO Token, c'abbiamo Ape, tra i peggiori è arrivato a 3 dollari, Ape, wow, Ape potrebbe fare veramente una brutta fine. È arrivato a 122 milioni, ricordiamo che Ape era arrivato a 20 dollari. Nier me l'hanno chiesto l'altro giorno, allora Nier ragazzi c'è un supporto a 1.6, qualcuno me l'ha chiesto, mi sono dimenticato di analizzarlo ieri nella live. Mi scuso, se vedi questo video, mi scuso per averti ignorato perché ti avevo detto di sì, poi mi sono dimenticato perché sono andato avanti nella live a parlare e mi sono dimenticato. Comunque, 1.6 c'è un bellissimo livello di supporto se ti interessa ed è molto probabile che ci arrivi. Cosa importante però, analizzeremo più a fondo Nier magari in un video a parte, questo lo prometto a chi me l'ha chiesto. Comunque vediamo che tra i peggiori abbiamo anche di Centraland, abbiamo anche Algo, Zillica, tutte queste qui ragazzi, una volta arrivati a questi livelli e a questi tipi di market cap, cominceranno a fare questi numeri tutti i giorni, 25% su 25% giù perché più scendono di market cap più diventano volatili, quindi bisogna fare attenzione. Poi, questi sono i peggiori e i migliori, andiamo a vedere un po' invece di notizie, FTX Collapse C Crypto Sector Layoff. Quindi, sicuramente licenziamenti in arrivo, ragazzi, nel settore delle criptovalute, ma anche perché non ci sono più soldi nel settore delle criptovalute, soprattutto nelle piccole compagnie per mantenere la gente che prima c'era. Infatti, prima c'erano persone abituate a girarsi i pollici dentro a questa compagnia, ma adesso, come vedete, il lavoro non ce n'è così tanto. Andiamo a vedere invece un video che interessa, quello di Kevin Hall. Se non lo conoscete, se non conoscete questo personaggio, lui è un businessman che fa, è un uomo d'affare, diciamo, quindi investe in compagnia e qualcosa così. Quindi, molto famoso negli Stati Uniti, è uno dei simboli degli Stati Uniti, diciamo, c'è anche un programma televisivo dove lui parla, dove ha fatto, si chiama Shark, il programma televisivo, dove lui e altri investitori ci sono dei businessman che vanno a proporle l'idea e loro decidono se investire o no. Comunque, lui è uno degli shareholder di FTX, sentite un po' l'intervista. Allora, qua lui dice che lui investe con sicurezza in FTX, vi risparmio tutta la parte, comunque qua parlo di come FTX sia buono, come investimento, come Sam è molto intelligente, questi due sono altri due youtuber scammers, ragazzi, io li odio questi due, perché comunque, questo per esempio parla solo del mercato buy, 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 qualunque cosa succede, dice comprate, 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 poi vende i suoi link alla gente, fa tante cose che non mi piacciono comunque. Mette nei casino un sacco di investitori, visto un sacco di investitori messi nei casino per colpa sua, che va bene, nel senso può succedere di sbagliare, ma non si scusa, c'è una faccia tosta, è un personaggio che non mi piace per niente. Comunque, a parte questo, lui è andato qua a parlare di FTX, che è FTX comunque sponsorizzata da questi due, ma non solo tramite il link, loro proprio prendevano soldi da FTX per portare dentro gente, e quando è successo quello che è successo, non si sono neanche deniati di chiedere scusa. Comunque, andiamo avanti. Comunque, lui parla di quanto FTX si assicura. Qua parla di come FTX, per esempio, ha comprato altre compagnie, ha aiutato altre compagnie quando stavano per fallire, quindi secondo lui è un genio. Qua comunque vi sparmi anche questa, perché se no diventa lunghissima. Allora, poi li chiedono praticamente cosa ne pensa del fallimento di questa cosa dell'FTT token, e lui praticamente analizza la cosa che io ho un po' detto negli ultimi giorni, cioè che lui, ovviamente tra altri big investitori anche in giro per il mondo, hanno subito grossissime perdite, stiamo parlando di milioni, miliardi di perdite, e sicuramente quello che lui ha detto è che le istituzioni non si avvicineranno più dopo questa storia le criptovalute finché non verranno regolamentate, ok? Quindi lui dice, vogliamo le regolamentazioni, le vogliamo ora, le pretendiamo ora. Quindi lui ha detto che andranno dagli Stati Uniti, dal governo, per pretendere le regolamentazioni il prima possibile. E qua abbiamo i due scenari di cui abbiamo parlato, che potrebbero essere uno molto brutto, all'inizio poi magari potrebbe diventare bello, e uno un po' più bello. Allora, cominciamo da quello bello. Quello bello è che arrivano le regolamentazioni, ovviamente il mercato dà più fiducia agli investitori, puoi investire con tranquillità come quando metti più o meno, diciamo, i tuoi soldi in banca, anche se le banche qua falliscono. Comunque, comunque c'è un fondo che ti protegge, sei protetto, è trasparente, bla bla bla, e quindi i grandi investitori arrivano, Bitcoin va a 100k, siamo tutti felici, ed è finita, si sposano i due, si baciano e sono tutti felici e contenti. No, questa è la prima, ok? Potenzialmente potrebbe succedere, potrebbe non succedere, non lo so. Andiamo a vedere la seconda invece, che è la più probabile. Le istituzioni colgono questo attimo per regolamentare le cripto a loro immagine e somiglianza, facendo scappare. Allora, prima di tutto la cosa che succederebbe è questa. Tutte le truffe che ci sono, e ce ne sono ancora tante che non abbiamo scoperto, verrebbero a galla, verrebbero a galla come funghetti. Cosa succederebbe a quel punto? Succederebbe che vediamo il mercato cominciare a crollare, perché ovviamente vedremo più domino effetto, più fallimenti, più gente che ha fatto scam, venire arrestata, bla bla bla. Questo potrebbe andare avanti per mesi, se non per anni, e questo potrebbe portare in ginocchio il mercato, perché comincerebbero gli arresti, comincerebbe l'FBI entrarci dentro, comincerebbero il governo degli Stati Uniti, la SEC, tutti quanti entrarci dentro a sta cosa per regolamentarla, e quindi andarci molto pesantemente. Questo ovviamente a livello di sentimenti di mercato non è molto buono. Dopo questa bella pulizia che potrebbe succedere, ovviamente potrebbero regolamentarla in maniera che a noi non piace, quindi mettere per esempio dei limiti, mettere delle cose che dicono tu investi qua, tu non investi là, e quindi potrebbero far scappare investitori, che sono entrati nel mondo delle cripto, giusto per il motivo perché si sentivano più liberi dalle istituzioni. Cosa positiva però che magari dopo aver fatto un po' di pulizia, il mercato si possa ripartire, cosa che dice anche lui, in maniera più pulita e quindi andare avanti, portare istituzioni, portare adozioni e così via. Quindi questo ragazzi a mio parere potrebbe succedere molto di più la seconda, quindi passare in maniera molto negativa, però poi aver fatto pulizia passare in una cosa più positiva a lungo termine. Questa è la mia idea, potrebbe anche avvenire la prima, tutti i belli contenti si va su, potrebbe succedere, non penso sia quella che succederà. Quindi lascio a voi ragazzi giù nei commenti e dirmi quale pensate sia l'ipotesi più probabile in questo caso e se la prima o la seconda. Poi andiamo a vedere, altre notizie importanti. Allora, avvisa interrompe il programma finalizzato al lancio delle carte di debiti con FTX, quindi già vediamo qua altri giocatori che si ritirano dal tavolo. CEO di Binance invita gli acquirenti di criptovalute a fare hodl per evitare l'imprevedibilità attuale. Allora, sicuramente non commento neanche su questa cosa ragazzi, sapete cosa ne penso di queste cose? Questo è un genio, visto adesso vuole diventare, prendere il monopolio di questa cosa. Speriamo che non succeda. È anche colpa degli utenti che hanno posto fiducia in FTX o stendere CEO di Binance. Adesso ormai si pavoneggia, io sono il migliore, sono sopravvissuto solo io. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque gli si deve dare conto il fatto che sopravvissuto veramente. Allora, vediamo Bitcoin che arriva ai 17.000 in questo momento. Abbiamo parlato stamattina di un possibile bullish a candle a breve termine, a breve termine, perché a lungo termine siamo ancora molto molto bearish ragazzi, quindi cerchiamo di non cadere nella cosa che una cosa bullish possa far scomparire una cosa bearish. Non è questo il giochetto. Come vediamo in questo momento ci abbiamo anche una peanut, ok? Questa è una peanut e un bearish pattern perché viene dal basso. Quindi solitamente questo pattern è sia bullish che bearish. Per sapere se è bearish o bullish bisogna vedere da che lato arriva. Quindi se arriva a questo lato e giù, se fosse che arrivava da su, allora era bullish, ok? In questo caso ovviamente non è completo, in senso che potrebbe essere svalidato andando a rialzo, però in questo momento tende verso una situazione più bearish. Però ovviamente ragazzi, come ho detto, non è ancora stato finalizzato, quindi non si può ancora sapere. Però è quello che vediamo. Quindi vediamo che ha fatto un double bottom qui. Sicuramente se noi teniamo conto questo double bottom con una neck, vediamo che comunque non è che andiamo molto lontani in caso di pampa, perché la neck ci darebbe comunque un risultato che è di 19.500. Quindi ritorneremo più o meno nella zona di resistenza precedente. Potrebbe succedere? Assolutamente. Non vedo però alcuni volumi al momento sul mercato molto potenti. Vediamo che i volumi comunque sono pressoché morti. Adesso sono iniziati i volumi più alti, però verso il basso. Quindi vediamo qui, verso il basso sono iniziati i volumi, quelli un po' più aggressivi. Vediamo su... Poi c'è un altro chart con altri studi. Non so perché sono spariti gli studi. Comunque da qui si vede un po' meglio la struttura dei volumi. Come vedete qua, grandi volume e ribasso. Qua i volumi rialzo, come vedete, non superano neanche la media mobile. Quindi sicuramente ancora siamo in una zona molto ribassista. Il prezzo è ancora molto schiacciato e ribasso. Andiamo a vedere Ethereum perché Ethereum è ancora nella nostra zona di accumulo. Ma perché sto guardando questo chart? Ecco perché non vedo i miei studi. Scusate. Ah, questo è stato uno degli altri che abbiamo analizzato. Allora, Quantum, ragazzi, avevo detto che sarebbe arrivato... Non mi ricordo se qua non eravamo muniti sotto i 100 e probabilmente lo avrei comprato. E infatti è toccato sotto i 100 con un engulfing e rimbalzato è andato verso l'alto. Adesso si trova in una zona di resistenza. Probabile possa toccare la zona dei 154 per poi tornare giù. Non penso che andrà più su di così perché comunque non vedo grande accompagnamento di volume neanche da parte del... Cioè, il prezzo non è accompagnato da grandissimi volumi rialzo, diciamo. Allora, andiamo a vedere Bitcoin. Qua che ce l'ho le mie analisi. Ecco le qua le mie bellissime analisi. Ok, vediamo che qua ha rimbalzato qua giù, ha preso il nostro zona di rottura, è andato giù, 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 giù. Ha rimbalzato di nuovo e ovviamente la prima volta che ha rimbalzato qua ha detto Ragazzi, questa è la nostra zona pivot. Cosa vuol dire? Che se volete comprare, comprate qui. Infatti, guardate, è entrato giù. Poi è andato su perché a noi ci serve un punto di rimbalzo per capire dove è la zona pivot. Se no, compriamo la cieca. Se no, avrei potuto comprare qui o comprare qui. Però non ci serve un balzo. Ci serve un balzo, ci serve una conferma ribasso. E quindi capiamo che questa è la zona dove i buyer si sono piazzati. Quindi vedete qua adesso ci abbiamo un engulfing candle. L'engulfing candle rigetto da una zona importante come questa significa che c'è una spinta a rialzo. Quindi sicuramente potrebbe tornare a toccare questa zona. Quindi 18, 18, 500. Queste sono aree che mi aspetto il prezzo possa tornare a toccare prima di andare giù. Però come vedete i volumi non sono molto buoni in questo momento. Non sono accompagnati. Ci abbiamo un money flow che è ancora bearish, molto bearish il money flow. E quindi non siamo ancora nelle condizioni di poter riprendere una spinta molto più aggressiva. Andiamo a vedere anche per esempio Solana che so che molti sono intrappolati in Solana. Solana è arrivata in una zona di supporto come vedete qui però non ha spinta. Anche con quest'ultima engulfing che è successa non è riuscito a riprendere una spinta. Perché c'è ancora molta pressione bearish. E quello che ho detto io ragazzi è vero che Solana è su un supporto storico. Quindi siamo tornati in questo supporto. Ma è anche vero il fatto che se questo è un supporto storico vuol dire che la rottura di questo supporto potrebbe portare a una storica discesa. Quindi attenzione perché il risk reward da questa zona è veramente brutto. E per il risk reward intendo che se voi entrate per esempio per un buy qua dentro Diciamo che potrebbe arrivare fino a qua No, è il vostro rischio comunque di sell è molto più basso. Perché fa così? Non lo so. Vabbè comunque avete capito cioè il rischio di sell visto che la zona qua c'è il vuoto C'è il vuoto fino ai 4 dollari se dovesse cedere quest'area. Quindi se cede quest'area c'è il vuoto. E poi sembrerebbe che ci sia una specie di testa e spalla. Non è molto evidente. Vi chiedo sul settimanale. Sul settimanale è un po' più evidente. Non è fatta benissimo perché questa non tocca qua giù. Però questa è l'idea del testa e spalla. Come vedete ha creato questa testa e spalla. E sicuramente questa testa e spalla vediamo un po' qual è il target. Anche se non è molto pulito. Ha un target molto basso quasi all'inizio quindi quasi a un dollaro. Quindi stare attenzione perché guardate i volumi di vendita qui. Il dump è eccessivo. Però ovviamente ragazzi se volete rischiare in questo caso sarebbe un buon punto di rischio. In senso che se credete in Solana credete che Solana fa bene. Cosa che io non posso crederci fino in fondo perché non è uno degli asset che io ho seguito così tanto. Le poche volte che l'ho seguito ho visto che la rete va offline. C'ha tantissimi problemi. Penso che potrebbe fare bene se sopravvive ma deve sopravvivere a questo livello. Quindi attenzione ragazzi perché se perde a questo livello Solana diventa veramente veramente ugly. Ok? Comunque per il momento ragazzi questo è tutto. Volevo parlarvi di queste cose. Forse farò una live domani, un'altra live. Quindi iscrivetevi pure al canale se volete. Casomai farò una live appena torno domani. Domani forse non ci sarò per un po' di tempo. E se vi interessa il corso ragazzi o se vi interessa anche fare più analisi tutte le mattine con noi o qualche trade quando entriamo in qualche trade o semplicemente avere l'indicatore GTI potete entrare a far parte della nostra community e aiutarci a crescere sempre di più. Molte cose stanno arrivando. Stiamo anche lavorando sulla sezione stock. Stiamo lavorando anche su una strategia di trading all'apertura con uno dei ragazzi dentro, uno dei nostri senior analyst all'interno. Quindi tante cose arriveranno. Forse questo sarà un Natale diverso dentro la community. Quindi per il momento è tutto. Vi invito a mettere like, mi piace, commento e iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.